ciao a tutti ragazzi un saluto da federico bentornati qui sul canale oggi è sabato e come sempre nuovo panino del sabato che verrà consegnato a una persona che mi ha scritto nel box delle domande quindi se non volete perdervelo andate a seguirmi su instagram e scrivetemi il vostro panino preferito nel box domande il prossimo panino potrebbe essere tuo oggi andiamo ad utilizzare la focaccia genovese che abbiamo fatto nella scorsa puntata ce l'andiamo ad aprire a metà la andiamo a farcire con della robiola dopodiché prendiamo della misticanza andiamo a condirla con un filo d'olio un pizzico di sale andiamo a metterci dentro delle noci e andiamo a concludere in bellezza con dell'aceto balsamico mescoliamo il tutto siamo quasi alla fine dell'opera andiamo a finire la nostra focaccia con del buonissimo salmone affumicato diamogli un po di volume ci siamo siamo pronti per andarla a chiudere così ed eccoci qua anche oggi siamo arrivato in fondo ad una bellissima puntata del panino del sabato come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare like commentare condividere ma soprattutto di iscrivervi al canale e noi ovviamente ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi